Cagliari e Milan stanno giocando da 5 minuti. Sugli sviluppi di un calcio di punizione, Riva si esibisce in una incursione nelle retrovie milaniste. Entra in aria e Schnellinger lo atterra. D'Agostini concede una punizione dal limite. Scopigno, in tribuna per la recente squalifica, osserva con attenzione la rincorsa di Riva. Sinistro, poderoso e gol. Cagliari 1 e Milan 0. Esplode l'Amsipa. L'entusiasmo è all'estello. Esulta in panchina anche l'allenatore in seconda Ugo Conti. Per il Cagliari la partita è iniziata sotto questi buoni auspici. Esaltati dal gol, il rosso-blu incalzano con sicurezza proiettandosi con assiduità nell'area milanista. Ecco un'altra punizione di Riva a fil di palo. Rivera richiama i compagni sollecitandone l'impegno. Parte il Milan e la sua prima conclusione arriva con Rognoni. Il tiro dell'ala milanista termina sul fondo. Uno spunto di Combino, uno dei pochi del centroavanti rosso-nero. La palla è per Lodetti. Tiro è bella parata di Albertosi. Il Cagliari contrappone, come sempre, Luigi Riva. Apparsa oggi in ottime condizioni. Dopo uno scambio Dominghini-Gori-Greatti, Riva tira al volo di sinistro dal centro dell'area ma fallisce il bersaglio. Si va al riposo, col Cagliari in vantaggio per 1-0. Il secondo tempo si apre col Milan alla ricerca del pareggio. I rosso-neri attaccano ma la nuova manovra non è lucida ed il Cagliari dà l'impressione di poter controllare abbastanza bene la situazione. Ecco un tiro di Lodetti. Contropiede del Cagliari con Gori protagonista. Il tiro del centroavanti è parato da Cudicini. Lodetti organizza il Milan a centro campo e di rosso-neri si fanno più pericolosi. Le loro manovre offensive sono sempre più frequenti e la difesa del Cagliari appare meno sicura. Ed infatti ecco arrivare il gol al 27esimo. Bella galoppata di Rivera per il resto oggi in giornata negativa. Passaggio finale per Prati e palla che sorprende Albertosi. Esultano ora i milanisti. Scopigno in tribuna è preoccupato. Il Cagliari cerca di riportarsi in vantaggio ma il gol di Prati l'ha disorientato. Le punte rosso-blu prese ormai dall'orgasmo non faranno più centro.